È un ritiro importante perché per la prima volta, al contrario degli ultimi anni, avevamo tutta la squadra al completo e quindi siamo riusciti a lavorare, a parte il piccolo contrattempo di Holloway che però si è già risolto perché sostanzialmente ha saltato solo due allenamenti, è sicuramente uno dei periodi più importanti dell'anno perché iniziamo a dare le regole fondamentali che poi svilupperemo durante l'anno e quindi credo che sia importante che si sia svolto senza particolari contrattempi. Vi aspettiamo numerosi domani, visto che la cosa più importante dell'amichevole sarà proprio il fatto che il ricavato verrà devoluto per i terremotati e quindi vi aspettiamo numerosi.